Buongiorno e benvenuto a questa zuppa di porro. Oggi ho poca voce, mi scuso ieri non l'ho fatta, ero praticamente afono e domani spero di riuscire a farla, sarò a Shanghai, quindi speriamo di riuscire a farla dalla Cina. Quello che è successo oggi è sui giornali molto semplici, si fa per dire, c'è un ennesimo scontro all'interno della maggioranza, questa volta tra Di Maio e Conte. Di Maio cerca ogni tanto di fare il fenomeno e in questo caso lo fa bene perché sarebbe stato modificato su proposta franco-tedesca il cosiddetto Fondo Salva Stati. Il Fondo Salva Stati è un meccanismo europeo di stabilità studiato nel 2012 per salvare Portogallo e Irlanda, come fanno capire bene oggi tutti quanti i giornali nella parte grafica dei giornali, non negli articoli. In realtà bisognerebbe prima spiegare cos'è questo e poi capire la polemica. Secondo quello che sono i ritroscene dei giornali, a giugno, quando quindi il governo non era l'attuale ma era quello con la Lega, Conte avrebbe accettato le modifiche di questo meccanismo di salvataggio degli stati proposte da Francia e Germania. Cosa fa il Fondo Salva Stati? Ve la faccio molto semplice, raccoglie soldi sul mercato mettendo titoli e poi acquista addirittura titoli dei paesi che sono in difficoltà. Quindi per esempio potrebbe acquistare titoli del debito pubblico italiano. Però il Fondo Salva Stati questa roba qua la fa a determinate condizioni e quindi su queste condizioni si sta giocando la partita. La partita anche politica di Maio in un'intervista oggi al Corriere della Sede dice no, 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 non si cambia come state cambiandola voi. Secondo grande tema di giornata, oggi vado un po' di fretta perché appunto siamo in partenza, la questione dell'ILVA diventa giudiziaria con le procure che fanno le perquisizioni, dove avete messo il materiale, state rubando, guardie di finanza. Allora io mi chiedo se voi foste il proprietario di un'azienda che viene in Italia e che intende investire 4 miliardi e che il tribunale da una parte vi chiede di chiudere un alto forno e dall'altra un tribunale invece vi mette in galera se quell'alto forno lo chiudete. In cui vi fanno le perquisizioni, in cui vi mettono lo scudo penale e poi ve lo tolgono, poi ve lo rimettono e poi ve lo tolgono. In un mercato che perde 2 milioni di euro al giorno, 60 milioni di euro al mese, in cui venite considerati dei bastardi sostanzialmente da tutta la stampa italiana, profittatori. Bene, se voi foste un ricco signore indiano che è partito dal nulla come il signor Mittal, un poveraccio che diventa miliardario e viene trattato così, rimarreste in Italia? No, ma ve la chiedo molto semplicemente. Ma chi è che obbliga il signor Mittal a stare in Italia con tutto questo casino giudiziario e questo casino legislativo? Perché noi ci mettiamo sempre nei panni, ovviamente nostri giustamente, ma nei panni di un'azienda che vuol dire paesi, dipendenti, tutto il resto del mondo. Ma perché dovrebbero rimanere in Italia questi qua? Vabbè, l'ipotesi, come sempre, paracula è che si faccia un agnuco. Dietro alla parola minuco ci sono i vostri soldi, cioè si fa una società in cui ci sono gli indiani che hanno capito qual è la partita in Italia, si fanno dare un po' di soldi pubblici dalle aziende pubbliche italiane e pensano di scaricare su quelli i dipendenti in più. È la tesi del Sole 24 Ore. Bella l'intervista di Tria oggi alla stampa. L'ex ministro dice, scusate, fermi, toc toc, ma chi cavolo mette i soldi? La cassa depositi e prestiti? E la cassa depositi e prestiti, i soldi dove li prende? Ve lo dico io, dice Tria, dal risparmio postale, cioè dal risparmio delle famiglie più, diciamo, meno sofisticate, mettiamola così in Italia, quindi da quelle famiglie i soldi vanno a finire alla CDP che li investe nella nuco con Mittal. Una cosa pazzesca. Salta nel frattempo, secondo il messaggero, la cordata salva all'Italia perché si sfilerebbe Atlantia e anche qui Atlantia fa il gioco ovviamente duro. Quelli a cui dovevano togliere Toninelli, Di Maio e lo stesso Conte e le concessioni autostradali, secondo loro, dovrebbero entrare obbligatoriamente all'interno della fallimentare all'Italia. 30 rinuncia alla casa e veniamo a scoprire oggi sulla Sarzanini che è tirato fuori da vicenda, di cui abbiamo parlato anche noi. Sapete cosa pagava di Canone al mese 180 metri quadri dal centro di Roma? 141 euro. Ecco, quando si dice che in Italia non ci sono i soldi? Eh sì, non ci sono i soldi. Se il patrimonio pubblico venisse messo un po' più a reddito, forse qualche lira in più si riuscirebbe a trovare. Queste non è che sono sprechi, sono mancate i guadagni. Nel frattempo, molto divertente, Bracalini sul giornale racconta gli acquisti folli dei grillini. Una volta che hanno lo stipendio, rispetto a quanto non avevano prima, si comprano il SUV, la moto da 20 mila dollari, molto divertente. Salvini, indagato, se ne occupa tra tutti i giornali, Senaldi oggi sul Libero, dice come il Cavaliere, indagato dalla procura di Agrigento, la stessa che, come vi ricordate, noi abbiamo visto a Quarta Repubblica che dice il diritto degli immigrati non si può, la legge è sbagliata, il decreto sicurezza. Insomma, gli stessi giudici che da una parte fanno politica e dall'altra lo indagano per sequestro di persone e omissioni di atti d'ufficio. La Racchete fa i suoi libri in giro per l'Italia ed è applaudita dal Parlamento europeo. I Salvini viene indagato dalla stessa procura che forse si dovrebbe occupare della Racchete. Così vanno le cose. Nel frattempo viene scarcerato il presidente della giunta romana De Vito in galera da marzo. Non si riesce a capire bene perché lui non si è mai dimesso e ha fatto bene la presidenza del Campidoglio e ritorna in Campidoglio perché deve essere il monumento agli arresti preventivi senza alcun senso. De Vito del Movimento 5 Stelle, non riesco a capire perché Lara Comi sia stata arrestata, non riesco a capire perché Tatarella sia stato arrestato. I magistrati quando possono arrestano. Peccato non essere parlamentari, lo dico per me stesso perché il rischio ovviamente lo corriamo tutti quanti noi. Tra l'altro oggi soltanto un giornale, ricorda, mi sembra che sia sempre libero di feltri, che vi ricordate le spese pazze, quelle per cui le giunte regionali erano tutte indagate? Cota, il presidente della regione Piemonte, abbiamo fatto un mazzo così sulla questione delle spese pazze, è stato archiviato, è stato assolto dopo Molinari, anche Cota assolto per le cosiddette spese pazze. Ultima cosa sulle sardine, è fantastico l'incipit di Repubblica, emozionante il contagio da Bologna a Palermo di questo dolce stil novo di piazza che disorienta Salvini. Insomma una specie di soffietto mostruoso. Si sono innamorati dei Girotondi, di Nanni Moretti e adesso è la volta delle sardine. Ogni dieci anni trovano un oppositore alla destra perché la sinistra da sola non ci riesce. È esattamente il tic di Repubblica. Nel frattempo Pulito sul Corriere della Sera parla di questo vizio italiano di fare il tifo contro. Perché questi che programma hanno? Cosa intendono? Qual è la loro politica economica? Cosa ne vogliono fare dell'ILVA? L'unica cosa che si riesce bene a capire è che a loro sta sulle balle, sinceramente Salvini. Tutto quello che vogliamo sapere di più e meglio sulle sardine le trovate sul mio sito nicolaporro.it che è a vostra disposizione per commenti di tutti i tipi vi segnano quello di Gervasoni, ma non solo, su questo nuovo movimento che piace a Repubblica. Ciao!